che onda mania cosi io sono il barbas e il dia di oggi proviamo a provare diversi equipi di KSR questo nuovo pedalito che ci ha avuto il Vesta è un pedalito di distorsione, è un preampo di 3 canali abbiamo un canal clean e due canali con distorsione, è un chassi esattamente uguale al pedal che già teniamo di KSR il Ceres, solo si presume che il Ceres è un high gain moderno, è un high gain vintage o più classico è esattamente uguale, gli mesi controlli che il Ceres, abbiamo controllo di gananza per cada uno di nostri canali con distorsione abbiamo un ecualizzatore di 3 bandi, grave, medio, agudo, controllo di volume e abbiamo 3 knobs differenti questo che è brightness on off, abbiamo feel, abbiamo 3 opzioni e abbiamo mode, anche abbiamo 3 opzioni qui, è un pedal true bypass e, bene, vamos a ascoltarlo con questa meraviglia che abbiamo qui è un power amp di 50 watts a bulbos, qui si possono vedere, trae due bulbos, JJ6L6, 50 watts abbiamo un amplificatore di 50 watts a bulbos di 3 canali, unicamente con questi due piccoli e gli mesi controlli che il nostro corso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.